Questa puntata di Omnibus che sarà divisa in due parti. Nella prima parte avremo diversi ospiti per parlare soprattutto di temi economici e poi nella seconda avremo con noi anche Maurizio Lupi, di noi moderati, e Nicola Fratoianni, il leader insieme a Bonelli di Sinistra e Verdi e quindi approfondiremo altri temi politici. Vi presento subito gli ospiti. Buongiorno a Sara Menafra, Open, la vice direttrice. Buongiorno a Adam Smith Society, a Alessandro De Nicola. Buongiorno Alessandro, con il suo libro, credo che ce lo fanno vedere, il lucetto che sta andando bene, da quel che so, lo stai presentando ovunque. Un libro di fantapolitica, completa fantapolitica, occorre dirlo di questi tempi. Poi abbiamo Mario Sensini, il Corriere della Sera. Buongiorno Mario. Buongiorno. E qui Francesco Giubilei di Nazione Futura. Buongiorno. Allora, intanto vi faccio vedere le immagini che arrivano in diretta da Bruxelles. Parleremo anche dei trattori. Eccoli qui la loro protesta. Vediamo se riusciamo a vederli. Eccoli qua. Sono arrivati. Oggi c'è il Consiglio europeo e il loro pressing ha già portato a qualche risultato. Però vorrei partire da un'altra notizia. Da quello che ha detto ieri il Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo, che ha paragonato l'evasione fiscale al terrorismo, dicendo che bisogna mettere a lavorare l'amministrazione, l'amministrazione finanziaria, ad acquisire i dati anche dai social per combattere questo fenomeno. Sono parole fortissime o che altro sono destinate a rimanere soltanto una mera buona intenzione, Mario Sensini? No, sono torni molto forti, sorprendenti anche in qualche modo. Anche se che il problema sia grave è noto. E che lo dica uno dei massimi esperti italiani è altrettanto vero. Certo che sorprende un pochino questo termine terrorismo. Un po' di meno questa cosa della caccia agli evasori sui social, perché è una cosa che non solo è perfettamente fattibile, è qualcosa che già avviene in molti altri campi. E come, sebbene questa cosa abbia scatenato ieri una polemica furiosa tra la Lega e i fratelli d'Italia, qualcuno ha detto la cosa giusta, cioè il fisco deve essere amico ma non fesso. Nel senso che se qualcuno sproveduto pubblica su Facebook, in continuazione o su Twitter, Instagram, foto di grandi alberghi, grandi vacanze alle Maldive, auto di lusso, ristoranti stellati, è come fosse un'autodenuncia. E quindi non c'è niente di più strano che poi il fisco... Oppure una vanteria da Miles Gloriosus, perché la Repubblica oggi, Mario perdonami se ti fermo, dice di aver contattato il garante che afferma che questo tipo di informazioni non si possono raccogliere, prima di tutto, perché potrebbero essere proprio semplicemente delle vanterie che non stanno nella realtà, ha ragione Sinner. La vita non vera la racconti sui social. Ma di fatti non può dire una cosa del genere il garante, perché se io pubblico di mia volontà e volontà un post su Facebook, ci mancherebbe che questo... è un post social, si dice così perché è pubblico. Esatto. Ci mancherebbe che questo diventa la violazione di una privacy. Stavamo dicendo però che mai e poi mai un post potrà diventare un elemento probatorio. Assolutamente. Potrà servire a corroborare delle inchieste, delle indagini, a essere integrato con altri elementi. Potrà al limite far scattare, potrà essere l'innesco di un'indagine fiscale, ma mai in sé stesso e solo e da solo un elemento di prova contro qualcuno. Questo è del tutto evidente. Ci ho detto, siccome il data scrapping, che intendo usare il fisco, noi lo vediamo tutti i giorni aprendo internet, perché non si sarà sfuggito, che se voi fate una ricerca su un sito di, non so, una lavatrice, voi per giorni troverete su Facebook e su altri social... Non ci sfugge. Questo è il data scrapping e questa è una tecnica, ovviamente informatica, piuttosto complessa, che il fisco può e giustamente deve usare. Sentiamo l'avvocato De Nicola. Che te ne pare? Il rischio c'è? Fa bene l'amministrazione a fondarsi anche su questo? Ma già ora l'amministrazione raccoglie le notizie in molti modi, e quindi questo è semplicemente un modo che segue l'evoluzione dei tempi e dei costumi. Prima c'erano le soffiate dei clienti che andavano a fare e non ricevevano lo scontrino, e quindi potevano fare tranquillamente una segnalazione alla Guardia di Finanza. Adesso questo può essere un modo come un altro. Però l'importante è che non diventi uno spreco di risorse della Guardia di Finanza. Mi spiego. Se attraverso i controlli sui social si inizia un'indagine, questo può portare poi a uno spreco di risorse, perché magari uno è sopra una Ferrari e poi si scopre che è una Ferrari che ha noleggiato per fare, come dicono a Milano, il ganassa per un giorno solo. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto prima. Come per ogni cosa, prima di avviare un'indagine non di routine, ma motu proprio, come direbbero i veri giuristi, ci vogliono i famosi indizi seri, gravi e concordanti. Se no, prima di ogni altra cosa è uno spreco di risorse dell'Agenzia delle Entrate. Quindi bisognerà utilizzare qualsiasi strumento con molta cautela e solo quando si è ragionevolmente tranquilli di poter raggiungere un risultato. Mario, che volevi dire? Poi vengo da Sara. Che, diciamo, lo spreco vero di soldi c'è quando, per esempio, si fa la caccia di evasoria a strascico, cioè senza andare con un obiettivo mirato, ma cercando di chiappare nel mucchio. Nel 30 dicembre del 2012 Cortina venne invasa da 80 finanziari che bloccarono la città, controllarono scontrini, fatture, negozi, alberghi, SUV, eccetera, 80 persone per due giorni. Tirarono fuori poco o niente. Si fanno delle inchieste, appunto, si facevano, per fortuna ora non si fanno più, le cosiddette appunto la caccia al buio. Si andavano a pescare. Quello era uno spreco di risorse. Quello è uno spreco di risorse. Ma incrociare i dati si può, teoricamente, da lì esce tutto. Certo che si può, si deve. Dovrebbe uscire tutto da lì, da quanto paghi di elettricità, di energia. Sì, ma il problema è, ma di fatti, questi strumenti esistono ancora. Esiste il bottigliometro. Lo ricordate il bottigliometro? Il bottigliometro mi manca. Dentro la cantina, farsi contare le bottiglie che ci sono, chiedere le fatture, ma la maggior parte dei casi non ci sono. L'anno scorso è stato condannato per questo un ristorante famoso a Milano Marittima, proprio per la storia delle bottiglie. Quindi il metodo è induttivo, già c'è. I dati ci sono, se ci fosse qualche elemento in più per incrociare, avere degli elementi, è utile, secondo me. Sara, noi abbiamo discusso dei social, però lì c'è la parola terrorismo, che è una parola fortissima. L'evasore è un terrorista. Cioè, il salto di qualità non è nello strumento, secondo me, ma è nell'aggettivazione che viene scelta per il fenomeno terroristica. Sono d'accordo. Cioè, secondo me, dal punto di vista pratico, anche se si potrebbe fare, i costi utilizzando il digitale potrebbero non essere enormi, visto che il data scraping ci permette di avere delle informazioni non al di là della privacy. I modi per accedere alle banche dati potrebbero essere moltissimi, ma sono stati già messi dei limiti sull'uso delle banche dati. Se ne può discutere, perché invece può essere il futuro della lotta all'evasione fiscale. Però il dato, come dici tu, è politico. Cioè, anche rispetto alla frase contestata di Meloni sul pizzino di Stato, rispetto a, diciamo, alcune forme di accesso al fisco da parte, diciamo, di controlli fiscali, il fatto che Leo dica cambi approccio è un dato politico che in realtà si inserisce anche, insomma, in una tradizione, diciamo, della destra, più, diciamo, più figlia di, anche, di alleanza nazionale, per cui... Legge l'ordine. Le tasse, sì, le tasse saranno, diciamo, poche, ma le dovete pagare. Tra l'altro, i dati del Sole 24 ore di stamattina dicono anche che se questa lotta all'evasione fiscale non funziona, e i dati arriveranno tra qualche anno, noi abbiamo già un problema a ipotizzare che i tagli che ci sono oggi in finanziaria restino. Quindi, insomma, il problema c'è e loro vogliono correre ai ripari. Anche se le banche dati, lì, bisogna fare un passo e accordarsi sul come. Attualmente è veramente un annuncio se il garante della privacy confermerà quello che aveva già detto, cioè che non vuole questo accesso alle banche dati. Francesco Giubilei, la Lega è quella che ha sparato a zero su queste affermazioni di Leo. Dice, fra l'altro, Siri, che il programma del centrodestra prevede di semplificare il fisco e di ridurre le imposte. Applausi unanimi da tutto l'emiciclo. Ma intanto, perché il vero problema è che noi ci sono due cose che non si fanno in Italia. Non si recupera tanta evasione fiscale come si dovrebbe e non si fanno quei tagli di spesa che pure servirebbero. Esatto, io credo che il governo debba andare in una direzione di politiche economiche, di stampo liberale. Ho un po' di perplessità nel verificare sugli account social dei cittadini. Noi abbiamo già un fisco che è estremamente invasivo e pervasivo. Costoso per chi lo paga. Sì, esatto. E credo che sia importante invece sottolineare un altro aspetto per l'appunto liberale di difesa anche delle libertà dei cittadini e che il fisco veda quello che io pubblico sui social network mi mette un po' di perplessità. Via, se non altro. Dopodiché, bisogna andare in una direzione che è quella del taglio del cuneo fiscale da un lato senza dubbio dall'altro lato però anche di caccia ai grandi evasori perché il problema quando noi parliamo di evasione c'è senza dubbio un'evasione che riguarda anche il commerciante che non fa lo scontrino che riguarda la partita IVA ed esiste e nessuno lo nega. Però c'è anche un'altra grande evasione o talvolta illusione illusione fiscale che avviene anche in modo talvolta legale penso al pagamento delle tasse in paesi esteri quando si fanno i profitti in Italia da parte di grandi aziende e non solo che se poi andiamo a vedere alla fine dell'anno in termini di mancate entrate per le casse dello Stato lo stiamo quantificando davvero in miliardi di euro quindi iniziare a intervenire sui grandi evasori credo che sia la cosa migliore dall'altro lato fare in modo che ci sia il famoso concetto che è caro al centro-destra di fisco amico quindi un fisco che vada senza dubbio a contrastare l'evasione ma al tempo stesso comprenda nei momenti in cui ci sono per esempio sui piccoli imprenditori per esempio sui commercianti delle situazioni di difficoltà e quindi c'è un mancato talvolta pagamento delle imposte per penso in particolare il periodo post-COVID questo vale senza dubbio anche per i lavoratori dipendenti senza aiuti esattamente cercare di andare incontro al cittadino e non vessarlo come talvolta avviene da parte del fisco quindi serve secondo me un cambio di prospettiva anche di carattere culturale sulla tematica fiscale che non è a mio modo di vedere guardare che cosa fanno i cittadini sui propri social network senti il sole 24 ore oggi apre con un titolo dedicato all'ennesimo record ormai facciamo tutti i mesi lo stesso titolo record occupati 23 milioni e 7 però aggiunge le considerazioni più importanti ma questo numero non spinge i due problemi italiani produttività sulla quale siamo scarsissimi e crescita che quest'anno che l'anno scorso era allo 0,7% e va ancora bene perché siamo sopra la media europea ma l'anno prossimo torniamo in fondo a quelle classifiche cioè un indicatore falso in questo momento è abbastanza matematica la cosa se a parità di produzione ci sono più impiegati più operai più persone assunte la produttività diminuisce quindi questa è la fase che stiamo vivendo la produttività è la quantità di lavoro per singola e ovviamente se l'unità è la stessa e a farla sono tre piuttosto che quattro chiaramente la produttività cambia purtroppo noi non cresciamo è lì il problema e questo è il dramma di questo paese che nonostante diciamo un'uscita abbastanza morbida dal post-covid fatica a recuperare un ritmo decente di crescita dell'economia che però badate bene in questo momento in Italia è molto migliore di quella che non stanno vivendo Francia e Germania solo la Spagna in Italia in Europa cresce tanto oltre il 2% e dopo la Spagna quasi paradossalmente piuttosto tornando un piccolo passetto indietro sulla questione dell'evasione io ieri ho sentito parlare ho sentito invece altre parole preoccupanti molto preoccupanti non solo terrorismo un accostamento sicuramente infelice ma ho sentito tornare a parlare di evasione di necessità questa è una cosa che secondo me ci fa fare un passo indietro dal punto di vista culturale quanto ai grandi evasori e alla caccia insomma sostanzialmente a chi non paga le tasse va oggettivamente detto che con la riforma fiscale sta cambiando un po' il sistema anche questo meccanismo del concordato preventivo stabilire a priori prima per due anni le tasse che bisogna pagare è una e così evitando i controlli è una sorta di patteggiamento se volete quello che è però sostanzialmente è il fisco che propone l'importo da pagare quindi in qualche modo ci si sta avvicinando questo è il sistema che già funziona con le grandi imprese i grandi contribuenti poi è vero ci sono anche patrimoni completamente ancora sconosciuti ricchezze ancora completamente sconosciute tizi che girano in Ferrari che magari risultano nulla tenenti ecco quelli bisogna piccoli ora non faranno la foto su Facebook naturalmente magari ci pensano sì ci pensano di più e che si fa Alessandro De Nicola per produttività e crescita come si cambia perché se il problema ha ragione Mario naturalmente il prodotto per unità resta quello anzi si abbassa perché ci sono più persone a fare lo stesso lavoro in tante situazioni pubblica amministrazione si affrontano i difetti che il nostro paese ha rispetto ai paesi più produttivi qual è una differenza sostanziale del nostro paese rispetto ad altri l'inefficienza della pubblica amministrazione perché la scarsa produttività della pubblica amministrazione ha questo pericoloso effetto che non solo deprime il PIL che in qualche modo è originato anche dalla pubblica amministrazione ma deprime il PIL anche di coloro i quali fanno affidamento sulla pubblica amministrazione e quindi se per fare il campo eolico tanto per fare l'esempio più abusato ci vogliono due anni mentre in Germania ci vogliono sei mesi beh questo ovviamente ha un impatto negativo se per fare un passaporto ci vogliono sei mesi se non paghi un'agenzia spiccia faccende a parte l'immoralità di questa cosa beh è ovvio che quelli che devono fare viaggi d'affari si trovano meglio in Germania dove ce l'hanno in due giorni piuttosto che in Italia dove ce l'hanno in segno la prima cosa è la pubblica amministrazione Alessandro ma queste erano le riforme teoricamente a costo zero del PNRR quelle che avremmo però per ora ancora non si vede un bel niente e quindi questo è il primo nodo il secondo nodo è quello delle infrastrutture nel senso che bisogna concentrarsi sulle infrastrutture utili ora io non voglio fare qui la polemica sul ponte dello stretto di Messina perché è lo sport nazionale dopo la squadra di calcio però sicuramente se chiediamo a un imprenditore di Catania rispetto ad uno di Palermo sarebbero molti o più contenti di metterci meno delle tre ore e tredici minuti che è il tempo minimo di percorrenza in treno tra Catania e Palermo piuttosto che come dire aspettare il salvifico ponte e tra Catania e Palermo c'è la stessa distanza che c'è più o meno tra Verona e Venezia dove notoriamente per chi frequenta il nord-est ci vuole un'ora e un quarto quindi le infrastrutture devono essere mirate devono essere mirate con un'occhio produttività terza e ultima cosa e qui mi taccio c'è il problema della concorrenza il nostro paese è un paese ancora a bassa concorrenza e naturalmente qui ci sono i casi eclatanti di cui discutiamo dalla mattina alla sera i taxi i balneari le farmacie i notai che sono molto fastidiosi obiettivamente però forse non incidono in modo drammatico sul PIL ma ci sono casi molto peggiori nel senso che se noi ad esempio vediamo quanto abbiamo agonizzato per instaurare il mercato libero dell'energia e ancora adesso non c'è questo è un tipico esempio dove la concorrenza nel nostro paese non funziona bene quindi concorrenza infrastrutture pubblica amministrazione se risolvi questi tre nodi non dico li risolvi se migliori questi tre nodi sicuramente la produttività già ne ha un buon vantaggio io sia Sara che Francesca ma la pubblicità incombe riparto da voi dopo il break eccoci 8 e 23 Sara Menafra allora il problema di questo 0,7 che quest'anno 0,7 nel 2023 sarà 0,8 perché poi un conto sono le previsioni un conto sarà la realtà quest'anno conferma a fronte di un'Europa che marcerà più veloce di noi che il declino continua eh sì gli elementi sono tanti diciamo la causa della crisi economica crisi energetica conflitti che sicuramente adesso c'è il problema appunto canali Suez Mar Rosso con una missione alle porte che forse si aiuterà la situazione forse no rispetto agli elementi che dicevamo prima che potrebbero aiutare alla produttività io volevo aggiungerne soltanto uno che riguarda gli incentivi alle imprese però e come li abbiamo concepiti finora nel senso che noi non spingiamo spendiamo tanti soldi per abbassare il cuneo fiscale e aiutare i dipendenti sì però è anche vero che diciamo lasciamo così le imprese non siano obbligate a aumentare i salari magari lavorando sulla produttività e quindi a come dire aumentare gli introiti riversarli sia sui dipendenti sia su un'innovazione di catena produttiva e di prodotto anche questo aiuterebbe la produttività invece in qualche modo noi così li sosteniamo per rimanere così e innovare poco altri paesi europei hanno concepito gli incentivi diversamente sono alcuni degli elementi che spingono avanti alzare i salari è un elemento che fa crescere un'azienda diciamo che deve inventarsi qualcos'altro per trovare quei soldi certo è giusto Giubilei anche lei liberale come De Nicola sì ogni tanto qualcosa che c'è comuna c'è no battute a parte è vero che ci sono nazioni come la Spagna che quest'anno sono cresciute di più due e mezzo che è molto cinque volte alla velocità europea è altresì vero però che c'è una nazione come la Germania su cui l'economia italiana è fortemente connessa in particolare nel nord-est che si trova a vivere una situazione economica che non è delle migliori e quindi nel momento in cui non cresce la Germania conseguentemente anche l'economia italiana è legata a questo dopodiché noi non ci dobbiamo dimenticare che purtroppo negli ultimi anni sono state compiute delle politiche economiche in Italia abbastanza scellerate cito su tutti il caso del superbonus cioè il fatto che l'attuale governo si trovi a dover gestire i conti erano tutti a favore poi dopo alcuni sono rimasti a favore altri sono diventati contrari il punto del superbonus è che in linea teorica nasce come una misura anche corretta per dire cerchiamo di fare ripartire l'edilizia nel momento in cui riparte l'edilizia si generano anche tanti posti di lavoro e si genera anche crescita il punto è che come spesso accade nel nostro paese partendo da delle idee che in linea teorica sono buone poi nell'applicazione quando vengono realizzate non funzionano perché ci sono state purtroppo tanti casi anche di malversazione tanti casi di truffe e soprattutto una misura concepita con quelle modalità il 110% ha fatto sì che oggi ci troviamo con 110 miliardi di debito legato al superbonus a cui aggiungere poi il reddito di cittadinanza che incideva circa 10 miliardi e ci portano a far sì che avendo anche il patto di stabilità ci troviamo ad avere una coperta abbastanza corta peraltro sulla manovra del prossimo anno già partiamo con un meno 14 miliardi perché sappiamo che proprio per il nuovo patto di stabilità dobbiamo reperire quelle risorse per cui la manovra che il governo si troverà ad affrontare nel 2024 fa sì che il campo su cui muoversi è molto ristretto purtroppo dobbiamo reperirle perché non cresciamo perché è un cane che si morde la coda resta così però grazie a Dio ha dato atto a Meloni di non essersi lamentata troppo salvo il 110% dei governi precedenti anche perché chi l'ha preceduta era Mario Draghi ed era difficile lamentarsi rispetto a molte cose Mario questa protesta degli agricoltori e possiamo tornare a Bruxelles che sono contro l'Europa contro il Green Deal e poi con le rivendicazioni nazionali naturalmente ognuno ha le proprie sono il fenomeno nuovo politico di questo inizio 2024 o le stesse cose ritornano per dirla con il grande scrittore ma guarda io mi ricordo che già nel 2019 2020 parecchi paesi europei vennero paralizzati dalla protesta degli agricoltori mi ricordo in Olanda quando ci fu una decisione di una decisione l'invito a mi sembra dimezzare la quantità dei bovini allevati per ridurre le emissioni di CO2 è lì successo in parapiglia però è ricorrente però i temi sono nuovi e sono molto più urgenti e sarà molto difficile trovare un punto di equilibrio per esempio la politica europea per la transizione verde imporrebbe agli agricoltori un prezzo molto molto elevato tanto per dirvi come stanno le cose in Francia in Germania in Italia stanno protestando contro l'aumento del prezzo del gasolio allora noi ci siamo impegnati con il PNRR a fare come tanti altri paesi europei la riforma dei sussidi fiscali dannosi per l'ambiente i principali sussidi fiscali dannosi per l'ambiente sono quelli legati alle agevolazioni sul carburante che vengono concesse all'agricoltura e alla pesca questo pone un problema un problema abbastanza importante come quello per esempio che suggerisce la possibilità di anzi l'obbligo di lasciare diciamo i campi non coltivati per un certo periodo di tempo per favorire determinate diciamo colture c'è il problema dell'Ucraina da dove vengono prodotti agricoli in questo momento a prezzi scontati stracciati che spiazzano la concorrenza europea quindi ambiente e Ucraina sono due temi politicamente molto importanti che sono già difficili per sé da risolvere figuriamoci se poi su questo si innesta la protesta di un settore importantissimo primario si chiama vitale per le nostre economie sarà veramente secondo me molto dura uscirne in Dennis e non immaginando una politica agricola comune molto differente dove l'incidenza dei sussidi che sono già molto alti rischia di diventare predominante e stravolgere un po' quelle che sono le dinamiche reali del mercato quindi è un problema parecchio serio le agenzie intanto ci dicono che sono un migliaio quei trattori che stiamo vedendo che possiamo vedere che stanno bloccando l'area intorno al al summit di oggi dei capi di stato e di il consiglio europeo dei capi di stato e di governo Alessandro De Nicola dice oggi Claudio Cerasa nel suo commento sul quotidiano che dirige sul foglio per tornare indietro ma rimanendo sempre nello stesso tema che il lavoro in Italia continua a aumentare ma manca il vero problema per il governo l'attrattività del paese e cita ad esempio Intel che aveva promesso investimenti per miliardi negli anni scorsi per 4 miliardi di euro che poi sono spariti proprio perché teoricamente la PIL come dire per i grandi gruppi per chi deve fare investimenti in questo paese non ci sono la PIL manca nonostante nonostante la droga del PNRR che ci consentirà di fare tante cose che non potevamo fare prima sì la mancanza di attrattività del paese la si vede da molte altre cose quella sicuramente più eclatante è la mancanza di attrattività di risorse umane nel senso che noi siamo giustamente preoccupati dell'immigrazione clandestina irregolare dei parconi e dei costi umani che questo purtroppo flusso comporta ma non ci chiediamo come mai le nostre università hanno una scarsissima percentuale di studenti stranieri che è un chiaro indice del fatto che le nostre università non sono attrattive e del perché non abbiamo un flusso di lavoratori specializzati tecnici quelli che tanto mancano al nostro paese l'unica cosa che abbiamo è un'attrazione di grandi manager ma perché perché abbiamo un incentivo fiscale per il quale se tu vieni in Italia dall'estero paghi 100.000 euro e sei a posto col fisco è ovvio che per uno che guadagna 500.000 euro pagarne solo 100.000 è una benedizione divina quindi è una cosa che magari funziona anche io non sono pregiudizialmente contrario però è l'unico motivo per il quale vengono questi grandi manager in genere italiani che ritornano a casa quindi la mancanza di attrattività c'è e per le imprese ancora una volta oltre alle tre cose che abbiamo detto prima concorrenza infrastrutture eccetera eccetera c'è la mancanza di certezza del diritto questo è i primi posti di tutti le indagini che ci sono rispetto alle imprese e la lentezza della risoluzione delle questioni giudiziarie e poi a seguire le tasse alte e così via però le tasse alte non ci sono solo in Italia sono anche in altri paesi europei soprattutto che però sono più competitivi dice a lei sono più competitivi hanno tutto il resto che funziona meglio la burocrazia il sistema giudiziario la certezza del diritto infrastrutture non voglio ripetermi però insomma i problemi italiani purtroppo sono sempre quelli non è che cambiano e siccome nessuno li risolve perché poi una causa magari non dura più 1150 giorni ma ne dura 1097 sì ok Hugh Ray come direbbero i cowboy ma sono 1097 giorni non va bene lo stesso e qui fino a che su questo non facciamo una presa di coscienza nazionale perché sì è vero che la classe politica sarà pure inadeguata ma vagli a toccare un privilegio o qualsiasi a ciascuna di queste categorie interessate è come aver è venuto un paragone no no meglio che non è venuto un paragone non esageriamo non sfugga la frizione Sara ma il Green Deal è troppo ambizioso o troppo come dire avanti rispetto agli altri guarda non lo so quello che mi sembra di poter vedere è che c'è uno spostamento del partito popolare europeo in generale della diciamo della destra conservatrice diciamo europea che secondo me sul Green Deal e in generale sul tema ambientale segnerà moltissimo le elezioni di giugno e in generale secondo me queste saranno l'ambiente cosa che per noi è abbastanza una novità ambiente quindi agricoltura in questo caso ma le conseguenze poi delle politiche ambientali possono essere tante saranno la nuova diciamo faglia su cui si confronta la politica che appunto per noi è abbastanza un dato nuovo ma evidentemente diciamo è questo un po' il futuro diciamo su su cui si si confronteranno von der Leyen essendo appunto un espondente del partito popolare europeo che aveva fissato sì un obiettivo alto anche se rispetto agli accordi internazionali sull'ambiente sono gli obiettivi diciamo che ci stanno per non andare a sbattere definitivamente dal punto di vista del cambiamento climatico quindi la situazione è molto grave gli obiettivi venerano alti ma ci potrebbe essere uno spostamento dei popolari europei che potrebbe cambiare anche rapidamente queste politiche non al caso le aperture che sono state fatte agli agricoltori sono aperture importanti cioè il fatto di stanno lì sono lì intorno e quindi non è mai annunciate che oggi potrebbero essere formalizzate però insomma ieri siamo entrati già abbastanza nel dettaglio quindi credo che saranno quelle rispetto a terreni incolti cioè cose che potevano avere diciamo delle conseguenze sull'agricoltura e sulla capacità dell'agricoltura di inquinare perché l'agricoltura sicuramente è uno dei fattori diciamo che inquinano cambiamolo cambiamolo tanto anche perché gli agricoltori poi hanno avuto tantissimo dall'Europa oggi protestano però il mercato agricolo europeo era un mercato chiuso perché se consentivamo ai prodotti che vengono da fuori di invaderci i nostri agricoltori erano belli e spariti da un sacco di tempo la PAC ha fatto bene all'agricoltura europea la PAC ha funzionato il problema è che noi abbiamo oggi un Green Deal che è a tutti gli effetti ideologico le misure che sono state prese dal 2019 in avanti dall'Unione Europea sono delle misure che rischiano di andare contro delle categorie che sono gli agricoltori sono gli allevatori ma sono anche tanti piccoli medi imprenditori però questo andare contro alcune categorie vuol dire governare alcune situazioni vero si chiama governo ma dall'altro lato c'è anche una democrazia europea che nel momento in cui il popolo vota decide se appoggiare o meno queste misure e credo che il campanello di allarme sia rappresentato da quanto è accaduto in Olanda cioè in Olanda si candida non un candidato qualsiasi per il centro-sinistra olandese ma si candida Franz Timmermans era proprio il padre del Green Deal e all'elezione olandese Timmermans contro Wilders perde proprio perché viene identificato da gran parte del popolo olandese come quella figura che ha portato avanti quelle misure di ambientalismo ideologico io penso che le elezioni di giugno segneranno una nuova cesura proprio per il fatto che c'è una gran parte di categorie di popoli europei che sono contrari a queste misure uno degli agricoltori che protestava peraltro anche in Italia perché queste proteste nascono in Olanda in Belgio poi si diffondono in Germania in Francia e arrivano anche in Italia ieri dicevo in una protesta io non sono un inquinatore sono una persona che produce del cibo che è la verità nel momento in cui i nostri agricoltori smetteranno di produrre cibo diminuiranno la produzione di cibo quel cibo comunque verrà prodotto da altri agricoltori in altri continenti lo dovremo importare in Europa per l'Unione Europea quindi il tema poi dell'inquinamento è spostare un problema da noi e da altre parti che è quello e concludo che in parte avviene talvolta anche sul tema delle energie rinnovabili per cui noi stiamo giustamente facendo una transizione ecologica sulle rinnovabili e poi abbiamo la Cina che ha le centrali a carbone ha il maggior numero di centrali a carbone con cui si produce energia elettrica per fare le componenti delle paleoliche e dei pannelli solari che poi esportiamo in Occidente quindi c'è un tema se vogliamo vedere la tematica ambientale in modo globale evitiamo di colpevolizzare ed attaccare certe categorie come sono i nostri agricoltori i nostri allevatori perché poi c'è il rischio che avvengano questi fenomeni di protesta Alessandro De Nicola però questo è una grande macinatore di sussidi la PAC è quello che ha ammazzato l'agricoltura europea perché se tu sussidi ogni anno 50 miliardi di euro all'agricoltura la domanda semplice è diventerà più efficiente o si adagerà sui sussidi garantiti ogni anno ma la risposta credo che sia semplice siccome la PAC è andata avanti per dalla creazione della comunità europea fino all'Unione Europea questo non ha reso più competitiva l'agricoltura europea l'ha resa meno competitiva ricordiamoci che in Italia per sette anni sono stati esentati dall'IRPEF i redditi agricoli sette anni recentemente forse ancora in vigore quindi non è che manchino gli incentivi all'agricoltura in Italia e in Europa se c'è qualche cosa che proprio non manca sono gli incentivi all'agricoltura la domanda che uno deve farsi è fanno bene questi incentivi all'agricoltura soprattutto per periodi così lunghi e in modo così generosi o semplicemente ne bloccano l'evolversi della produttività e dell'efficienza storicamente ed Europa a questo punto è un altro esempio storico eclatante se tu sussidi non migliori l'efficienza fino a che arrivi il reddere azione i soldi degli altri non ci sono più come diceva Margaret Thatcher e ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo ora quindi dall'inizio è bene evitare i sussidi quindi l'agricoltura non doveva essere sostenuta però sarebbero andati tutti fuori gioco adesso parliamo nel 2024 ma nel 1960 quando tutto questo nacque e la situazione era assai diversa c'erano il settore il settore primario era un settore che pesava tantissimo nelle economie europee e andava sostenuto un conto è avere dei sussidi per accompagnare la trasformazione e legati al miglioramento d'efficienza un conto è sapere che invece che whatever it takes whatever it happens prima la comunità europea e poi l'unione europea ha un fondo che è il prevalente perché il bilancio della comunità europea è prevalentemente per finanziare la PAC che rimane inamovibile anzi mano a mano aumenta un po' ogni anno questo è un qualche cosa che lo vediamo non è che sto teorizzando che necessariamente diminuisce l'efficienza del settore che si aiuta se tu lo fai come accompagnamento a un periodo di transizione legato al miglioramento di efficienza può non fare grandi danni può funzionare se tu lo fai in eterno e a questo aggiungiamo e sta arrivando l'Ucraina enorme produttore di grano che naturalmente piace pochissimo a chi già ha produzioni analoghe nel resto d'Europa perché sarà sussidiata anche l'agricoltura l'agricoltura ucraina e beh va bene però la Polonia infatti è diventata meno amica dell'Ucraina Mario è giusto tutto questo ragionamento? Quello che dice Di Nicola è perfetto nel senso che è così la PAC è stata è sovvenzione poco di più faccio presente tra l'altro che nella PAC quindi la protesta è una protesta egoista in qualche maniera? Ma questo non lo so sicuramente bisognerà prenderle in considerazione le istanze degli agricoltori cercare di trovare una soluzione un compromesso qualche via d'uscita però è verissimo che in questi anni gli aiuti sono arrivati in via sistematica la PAC è l'unica dove non c'è non viene applicato questo principio sacrosanto degli aiuti europei del phasing out cioè che si comincia con 100 primo anno poi 90 poi 80 70 60 perché non ti devi abituare al regime di sovvenzione quindi l'aiuto serve per migliorare l'efficienza della produzione non per sostenere la produzione noi abbiamo sostenuto delle produzioni che probabilmente non erano concorrenzialmente sostenibili ma vi dirò di più che la politica agricola europea all'inizio e per molti anni ha fatto anche danni nel senso che io mi ricordo nelle mie campagne i campi venivano coltivati poi a un certo punto sei marchigiano ricordiamo veniva seminato un certo cereale che non si pigliava nessuno perché comunque non aveva mercato i campi non venivano più curati i cinghiali si mangiavano tutto e il contadino prendeva l'incentivo per l'inseminativo di quel determinato cereale e poi i soldi per i danneggiamenti fatti dal cinghiale il contadino stava a posto però voi capite bene che un sistema così non funziona e quindi sicuramente anche l'agricoltura deve essere sostenibile scusa Mario però la replica degli agricoltori è benissimo tutte queste considerazioni arriveranno in Europa prodotti che naturalmente hanno una qualità diversa un costo diverso sì ma anche una qualità diversa rispetto alle nostre produzioni sì ma questo che vuol dire è successo con tutto è successo con le automobili è successo con i vestiti è successo con le elettroniche è successo sta succedendo con il cibo infatti ci siamo impoveriti proprio per questo ma già ad oggi accade questo ma chiudersi chiudersi però chiudersi però non è la soluzione sì però oggi succede che se noi parliamo con un qualsiasi agricoltore siciliano lui ci racconta che il costo di raccogliere le arance o raccogliere i limoni è maggiore rispetto a quanto loro ci guadagnano mettendo i prodotti sul mercato e quindi talvolta dicono lasciamo cadere le arance o lasciamo cadere i limoni dagli alberi perché non ci conviene e al tempo stesso cosa accade accade che noi importiamo nel mercato italiano le arance e i limoni dalla Tunisia in cui non sappiamo talvolta neanche i prodotti che vengono utilizzati ma non meno male uno per volta uno per volta un attimo Alessandro i nostri agricoltori devono giustamente aggiungo rispettare delle regole sul tema per esempio dei diserbanti sul tema dei prodotti che utilizzano la qualità è anche una filiera che è comunque una filiera controllata a tutela del consumatore quello che accade extra ue non è così perché l'agricoltore tunisino o l'agricoltore a regole diverse a regole diverse utilizza per esempio dei diserbanti che da noi sono vietati da 30 anni e però poi ce li mangiamo noi e impoveriamo il settore agricolo italiano questo è un problema ho 4 minuti e devo sentire ancora Sara Mario finisci no ho finito penso che ci siamo allora Sara il problema è questo perché il problema poi è in mezzo ci sono i consumatori anche da considerare cioè non è che ci sono solo gli agricoltori poi ci sono i consumatori che possono avere già scelgono perché arrivano quegli altri prodotti l'olio d'oliva il finto olio d'oliva sì ma arrivano diciamo che noi possiamo ipotizzare come controllare questo mercato come provare a governarlo rispetto al fatto che arrivino merci che costano appunto molto di meno in un mercato in cui appunto restiamo comunque tra l'altro poi in Italia ma la cosa riguarda tutta l'Europa i salari sono anche bassi non crescono quindi è anche normale diciamo comprare il limone al discount e non diciamo nella fila controllata italiana però secondo me torniamo a una considerazione in cui il punto politico diciamo del peso che gli agricoltori hanno avuto sull'Europa e che secondo me continueranno a avere per le prossime elezioni anzi stanno tornando a essere molto forti come gruppo di potere e effettivamente diciamo cambieranno le politiche europee non per forza diciamo per il bene comune nel senso che è chiaro che le produzioni europee vanno in qualche modo protette per diciamo per evitare l'aggressività del mercato globale ma a volte si può andare diciamo in senso antistorico e anti ambientale e su questo io non sono d'accordo con Francesco cioè secondo me le politiche europee diciamo rispetto al climate change sono politiche ambiziose perché la situazione è molto grave non sono diciamo politiche diciamo che vogliono semplicemente bloccare o far del male agli agricoltori la situazione è grave tutti gli esperti diciamo internazionali ci dicono che la casa brucia e illudere gli agricoltori che si possa continuare così mentre appunto diciamo la catastrofe climatica è quasi imminente è sbagliato è illusorio vanno protette le produzioni europee De Nicola hai detto no un attimo fa vanno messe sul mercato come le altre perché già ora le regole del commercio internazionale e le regole dell'Unione Europea prevedono l'eccezione sanitaria cioè se ci sono prodotti che sono rischiosi per la salute o che sono coltivati in modo che non siano conformi alle regole europee possono essere bloccati tariffati può succedere tutto quindi quello che noi oggi importiamo lo importiamo perché abbiamo deciso che sono che si tratta di prodotti che possono essere tranquillamente consumati e se qualcuno vuole consumare l'olio d'oliva della Tunisia che magari non è la stessa bontà dell'olio d'oliva Ligure o di quello Toscano ma lo paga meno e quindi fa una valutazione costi benefici e si compri l'olio tunisino tra l'altro noi diciamo sempre aiutiamoli a casa loro e poi quando possiamo aiutarli importando l'olio diciamo no però l'olio no li aiutiamo in un altro modo quindi obiettivamente il commercio internazionale porta dei vantaggi fa specializzare le produzioni fa sì che il consumatore possa avere maggiore scelta sia di prezzo che di qualità è una politica perdente chiudersi ma non solo è perdente perché ha effetti negativi sul consumatore ma è perdente perché fa sì che noi non ci specializziamo in quello che sappiamo fare meglio e non siamo ligi sul perseguimento dell'efficienza questo vale in agricoltura come con le automobili che sono state giustamente ricordate come per gli altri prodotti questo è proprio Adam Smith puro David Riccardo e Adam Smith messi insieme ci dobbiamo fermare io ringrazio Alessandro De Nicola e Mario Sensini mentre restano Sara Menafra e Francesco Giubilei stanno arrivando Nicola Fratoianni di Sinistra di Verdi e Sinistra e sta arrivando Maurizio Lupi di Noi Moderati ci vediamo fra poco 8 e 53 sono stato troppo ottimista perché qui vedete Sara e Francesco i nostri due ospiti politici pare che siano in ritardo problemi di traffico e problemi di altro io voglio partire parlando della cosa di cui non abbiamo parlato subito del caso di Ilaria Salis vediamo ieri sera in esclusiva il telegiornale di La Sette aveva questo memoriale che la stessa Ilaria aveva consegnato al suo avvocato vediamo come abbiamo trattato questa che è il racconto di un anno a Budapest poi Francesco Giubilei a altri documenti proprio di Ilaria Salis mi trovo tutto il tempo in una cella minuscola e sensaria fra gli scarafaggi il vitto scarso senza possibilità di comunicare trattata come una bestia al guinsaglio è il memoriale di Ilaria Salis dalla sua prigione un carcere di Budapest ex gestapo lo scrive il 2 ottobre quando si trova agli arresti da quasi otto mesi è per un ex politico italo-ungherese della sinistra radicale che ora lavora al consolato affinché lo spedisca al suo avvocato italiano che in tutto quel tempo non ha potuto incontrare racconta le circostanze dell'arresto lasciata senza indumenti con solo mutande reggiseno e calzini sono stata costretta a rivestirmi con abiti sporchi malconci e puzzolenti che mi hanno fornito in questura e indossare un paio di stivali con i tacchi a spillo che non erano della mia taglia resterà con questi vestiti per 5 settimane per 7 giorni non avrà carta igienica sapone e assorbenti rimedierà solo grazie a una detenuta ungherese l'igiene è un problema sono rimasta per 5 settimane senza ricevere il cambio lenzuola non le cambieranno per altre 3 o 4 per i primi 3 mesi sono stata tormentata dalle punture delle cimici da letto oltre alle cimici nelle celle nei corridoi è pieno di scarafaggi nei corridoi esterni spesso si aggirano topi c'è un problema di malnutrizione il carrello passa per la colazione per il pranzo ma non per la cena a colazione si riceve una fetta di salame spesso in cattivo stato a pranzo danno zuppe acquose in cui c'è pochissimo cibo solido ma dove spesso si trovano pezzi di carta e di plastica capelli o peli l'aria è poca solo quella che filtra dallo spioncino si trascorrono 23 ore su 24 in cella completamente chiusa c'è una sola ora d'aria al giorno e la socialità non esiste tutte le mattine ci svegliamo alle 5.30 ogni volta che dobbiamo sostare in corridoio dobbiamo stare rivolte verso il muro ilaria salis spiega che non ha potuto iscriversi alle lezioni di scuola elementare ungherese lingua in cui avvengono tutte le comunicazioni con la motivazione che non parla ungherese per sei mesi non ha potuto comunicare con la famiglia l'unico svago è un laboratorio di attività manuali non viene pagata in quanto detenuta straniera deve tenere sotto controllo un nodulo a marzo un mese dopo l'arresto avrebbe avuto un'ecografia programmata in Italia riesce a farla solo a metà giugno non le consegnano il referto la dottoressa mi ha detto a voce che andava tutto bene e che non dovevo svolgere altri controlli racconta quindi le sue condizioni erano note da tempo alla nostra diplomazia che ogni volta che deve uscire dal carcere viene portata ammanettata al guinsaglio si rivolge ai suoi legali gli avvocati ungheresi dicono che non si può far niente perché per loro tutto ciò è assolutamente normale ma so che in Italia non è per niente normale grazie per l'attenzione Ilaria Salis allora questo è il memoriale adesso Francesco aggiungerà le cose che in esclusiva ha pubblicato oggi per il giornale ma intanto va detto che cosa ha affermato il premier il presidente ungherese Orban dopo l'incontro con Giorgia Meloni ho raccontato nei dettagli il caso Ilaria Salis ha detto alla premier Giorgia Meloni le ho detto che la magistratura non dipende dal governo ma dal Parlamento l'unica cosa di cui sono legittimato di cui sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento in carcere ed esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento tutti i diritti saranno garantiti Francesco che cosa avevi tu come altri elementi del caso voglio fare una premessa la premessa che è compito e dovere dello stato italiano del governo fare in modo che i diritti di ogni detenuto italiano all'estero siano rispettati che vi sia il rispetto dei diritti umani questo è assolutamente fondamentale dopodiché oggi con il giornale abbiamo pubblicato un'esclusiva ho proprio il documento che è un atto del procuratore capo di Budapest in cui scritto chiaramente in ungherese e lo abbiamo tradotto in cui vengono raccontati quelli che sono i capi di accusa di Ilaria Salis sono quelli che conosciamo a sintetizzare ci sono alcuni elementi però che sono diciamo abbastanza inediti l'ufficio del procuratore capo di Budapest ha presentato un'accusa contro tre cittadini stranieri che perché non c'era solo Ilaria Salis ma c'erano anche due cittadini tedeschi che hanno partecipato cito tutto testualmente come membri di un'organizzazione criminale agli attentati di Budapest del febbraio 2023 che hanno causato un totale di nove vittime i membri dell'organizzazione vittime vuol dire feriti esattamente e concordavano che la lotta ideologica contro i simpatizzanti dell'estrema destra dovesse essere combattuta con la violenza e qua c'è un punto importante hanno deciso di compiere attacchi organizzati contro vittime ignare identificate o percepite come simpatizzanti dell'estrema destra quindi l'accusa dice che ci sono state alcune vittime di questi attacchi e pestaggi che erano semplici cittadini dopodiché si arriva alla parte c'è tutto il documento dell'incriminazione la procura di Budapest ha incriminato la donna italiana ovviamente Ilaria Salis per il reato di tentate e lesioni personali con pericolo di vita e nell'atto di chiusura dell'indasino della polizia ungherese si dice che c'è stata anche una complicità con un'organizzazione criminale quindi queste sono le evidenze che vengono poste chiaramente dobbiamo essere garantisti qui vengono però riportati tutti gli elementi legati al fatto che lei è accusata di una complicità con un'organizzazione criminale e quindi è il motivo per cui rischia una pena così alta aggiungo anche un altro elemento ed è il fatto che nell'opinione pubblica ungherese questi fatti hanno determinato un forte shock perché a Budapest e l'Ungheria in generale che è una nazione molto sicura e Budapest è una città molto sicura il fatto che dei cittadini stranieri fossero andati questo sempre secondo l'accusa anche se il tedesco ha confermato queste accuse fossero andati a Budapest per compiere dei pestaggi di carattere politico colpendo anche i cittadini che in realtà non avevano un ruolo legato all'estrema destra è un qualcosa che ha fornito all'opinione pubblica ungherese un forte shock ed è il motivo per cui vengono richieste queste pene che per noi italiani sembrano abbastanza alte abbastanza alte la proposta di patteggiamento è 11 anni il tedesco invece ne ha accettati 3 possiamo entrare ecco è arrivato Nicola Fratoianni spero sempre che arrivi buongiorno Fratoianni la richiesta è così alta perché considerano questo gruppo come un'organizzazione con un'organizzazione di tutti gli effetti criminali c'è chi usa anche il termine paraterroristico però non è inserito all'interno di questo atto ed è il motivo per cui c'è una richiesta così alta ciò non giustifica ovviamente se ci sono stati dei soprusi nei confronti di laresali si in carcere e quant'altro non è ovviamente giustificato però riporto quello che gli atti di accuse da parte del giudice posso sentire Fratoianni subito come giudica il lavoro che ha fatto il governo intanto Giorgia Meroni è arrivato all'Europa Building a Bruxelles dove si tiene il vertice ufficialmente si parla ufficialmente è convocato per la revisione del bilancio ma ci sono tanti temi l'Ucraina e anche il caso Salis naturalmente nei colloqui bilaterali come ha lavorato il governo finora? Meglio tardi che mai cosa dobbiamo dire di una vicenda incredibile come questa meno male che si sono svegliati Meloni ha telefonato a Orban ci ha parlato il ministro Tajani si è accorto di quello che succedeva è incredibile che abbia potuto dire che non lo sapeva incredibile non per lui perché insomma qualcosa non ha funzionato nella catena diplomatica mi pare del tutto evidente l'ambasciatore che ha fatto per 11 mesi eppure il padre lo aveva sollecitato lo aveva cercato era nota questa vicenda a chi voleva vederla dunque meglio tardi che mai perché quello che ci interessa credo a tutti a tutte che interessa a me è che Ilaria Salis venga liberata venga riportata in Italia e sia sottratta ad una condizione che è fuori dal mondo non solo per le catene per i topi per le celle con gli scarafaggi per le vessazioni che non hanno a che fare con nulla che richiami il diritto il diritto italiano e il diritto europeo ma anche perché siamo dentro una gigantesca incredibile vicenda di rovesciamento della realtà adesso ascoltavo la fine dell'intervento che mi precedeva che spiegava il fatto che lì considerino addirittura questa un'organizzazione terroristica pericolosissima è curioso che diciamo il reato di cui è accusata rispetto al quale lei si dichiara innocente è bene ricordarlo sarebbe avvenuto in una giornata nella quale le autorità di quel paese di quel paese che considerano Ilaria il gruppo di cui fa parte un'organizzazione pericolosissima autorizzavano una manifestazione in cui dei nazisti che si dichiarano tali cioè non nazisti che lo dico io vanno in giro per l'Ungheria diciamo in modo tranquillo a onorare le SS ecco è un mondo alla rovescia fatemelo dire che ci sia qualcuno che rischia 23 26 anni di carcere 11 patteggiando questa è l'offerta 11 patteggiando bella offerta diciamo ma 26 anni di carcere per aver secondo l'accusa pur dichiarandosi innocente provocato 5 giorni di prognosi aiutatemi 5 giorni se io faccio così alla nostra ospite non è proprio così però sono 5 giorni di prognosi di questo stiamo parlando no stiamo parlando del fatto che stiamo parlando di un reato che in Italia che in Italia diciamo è punibile al massimo con 4 anni credo di reclusione qualcosa del genere insomma è un mondo alla rovescia vorrei che qualcuno si indignasse del fatto che in un paese europeo sia consentito ai nazisti di andare in giro a celebrare però scusi se posso io non entro nel merito perché sia stata concessa quella manifestazione in Ungheria però non è che se i nazisti manifestano allora si è legittimata ad andare a picchiare i nazisti no i nazisti non devono manifestare in giubilei però lei dovrebbe dire che trova incredibile che in un paese europeo ai nazisti si è concesso di manifestare ma su questo posso essere d'accordo ci mancherebbe altro però non è che se è consentito che i nazisti manifestino poi è consentito che si vada a picchiare i nazisti ma il punto non è neanche questo il punto che hanno picchiato non so se è la Salis e lo ripeto però questa organizzazione di cui il tedesco ha confermato queste accuse sono andate a picchiare anche dei cittadini che non erano militanti d'estrema destra e questo è il punto di rimente hanno picchiato alle persone che loro percepivano come manifestanti d'estrema destra non è neanche questo normale che vada a pestare e picchi una persona benissimo Sara la cosa che voglio chiederti è per una volta la politica italiana si è trovata tutta d'accordo con l'eccezione della Lega che ha rimarcato una diversità di posizioni perché? allora secondo me il caso di per sé è abbastanza clamoroso nel senso che comunque è una donna abbastanza giovane c'è un tema diciamo di detenzione carceraria diciamo inequivocabile dal punto di vista di come lei è stata trattata da come è stata portata diciamo in tribunale tutte cose diciamo che vanno oltre la nostra percezione diciamo del diritto anche solo minimo le nostre carceri sono orribili e alcuni giornali oggi tornano anche sui dati nostri ma insomma comunque la sua situazione è peggiore la politica si è mossa anche il centro-destra anche se adesso vediamo perché appunto dopo le parole di Orban ieri che hanno messo un freno rispetto a quello che Tajani ha detto l'altro ieri e quindi diciamo la possibilità di ottenere dei domiciliari prima di tutto a Budapest e poi cercare di spostarla Orban ieri sembra aver comunque frenato su questa possibilità dicendo che in qualche modo le ha chiuso una lezione di diritto perché dice che lì lui non controlla anche se è in fondo alle classifiche dell'indipendenza della magistratura europea non è fatta in realtà la magistratura comunque appunto tant'è vero che l'ha detto lo controlla il Parlamento non ha detto che non c'è l'indipendenza dal potere diciamo tra politica e giustizia perché effettivamente in Ungheria non è così quindi insomma la situazione secondo me genererà ulteriori tensioni perché dopo le parole di Orban di ieri che si fa allora si lascia l'area Salis per appunto dei reati che se confermati in ogni caso sui cinque episodi lei in due era proprio sull'aereo quindi diciamo stiamo parlando di al massimo tre episodi se confermati tutti e tre in ogni caso le lesioni non sono mai state gravi cioè le lesioni che per il diritto italiano se sono sotto i 20 giorni quindi possiamo dire che non sono cinque sono quindici mi pare che la risposta sia nelle poche parole di Orban ha annunciato la sua intenzione di esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento puntiamo sull'equo trattamento di Orban ma il fatto che il presidente ungherese debba dire che esercita un'influenza e già questo diciamo conferma che c'è un'influenza per avere un equo trattamento intanto è un riconoscimento che l'equo trattamento non c'è e che siamo in violazione dei diritti è una vicenda io penso che queste sono quelle classiche vicende su cui diciamo poche parole senta Fratoianni C'è 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 Aspides e ha detto una cosa che è una novità ci sarà almeno una nave italiana e questo lo sapevamo questo era l'annuncio già fatto per 12 mesi e valutiamo anche l'invio di assetti aerei quindi di aerei con compiti di sorveglianza e raccolta dati poi naturalmente le nostre forze armate hanno il dovere di difendersi qualora si trovassero in una situazione di pericolo che cosa ne pensa di tutto questo? Penso che questa vicenda sia una vicenda molto pericolosa che rischia di trascinare il paese in potenziale conflitto vedremo naturalmente quando il Parlamento e se il Parlamento sarà informato perché abbiamo capito dalle parole della Presidente del Consiglio che non ci sarà un voto parlamentare non mi pare una buona idea ma ci aspettiamo almeno una comunicazione e un'informazione dettagliata vedremo quali sono i confini il perimetro le regole di ingaggio come si dice in gergo tecnico tuttavia segnalo peraltro l'ho appena detto che per ragioni ovvie mandare assetti militari in una situazione non solo ad alta tensione ma con elementi di conflitto significa esporre quegli assetti dunque il paese alla possibilità di un conflitto è solo difensiva ma dobbiamo subire gli uti ma qui non è che dobbiamo subire gli uti dobbiamo capire che cosa sta succedendo in quell'area che cosa e perché si stanno determinando iniziative come queste quali sono gli elementi di tensione che oltre alla vicenda cosiddetta medio orientale al massacro di Gaza hanno a che fare con tensioni di ben altra natura di carattere geopolitico commerciale rispetto a ciò che si gioca in quello spazio di mare e a come si ridislocano gli assetti di potere a livello globale in quello spazio di mare sapendo che diciamo la storia anche recente ci insegna che pensare di risolvere le situazioni di conflitto con elementi di escalation militare non porta granché bene e quindi io sarei molto prudente diciamo intanto in attesa di avere una comunicazione poi vedremo ci fermiamo un istante 9.15 buongiorno a Maurizio Lupi noi moderati benvenuto buongiorno buongiorno a voi le chiedo subito una cosa io ho ascoltato la seguivo con grande attenzione ma non ci possiamo collegare che pensa come vive questa vicenda Salis per chiudere quella pagina lei ha un'intervista al Corriere oggi dove è molto chiaro noi garantisti a giorni alterni appunto un'intervista al Corriere ma anche ieri pubblicamente io credo che non si possa essere garantisti a giorni alterni che fare distingo non serva indipendentemente ho sentito prima le accuse le accuse dell'accusa o la difesa della difesa non si tratta di questo si tratta che immagini come quelle che abbiamo visto e la lettera accorata che avete anche letto a pezzi le denunce non possono essere accettate in nessuna parte del mondo ma non possono essere accettate in un'Europa come la nostra che ha quella cultura che fonda l'Unione Europea che è una cultura che difende la dignità della persona qualunque cosa abbia commesso quella persona se ha sbagliato sarà processata se sarà processata e se sarà ritenuta colpevole sconterà la sua pena ma la dignità della persona e i diritti di ogni persona non possono essere mai messi in discussione e mai utilizzare questi temi per uno scontro politico non funziona non ci aiuta e fare il distinguo non serve a nessuno le strumentalizzazioni non servono la storia drammaticamente ci ha insegnato questo io quando ho visto quelle immagini siccome sono un po' più anziano magari della persona che è intervenuta prima e che saluto mi sono venute in mente le immagini di Enzo Carra tangentopoli in manette che gridò fece indignare ognuno di noi ed era l'Italia e in Italia quelle immagini non andavano bene non funzionavano ci scandalizziamo stiamo lottando penso al centrodestra sul tema della carcerazione preventiva sul tema di una giustizia giusta e poi ci mettiamo a fare i distingui su questa cosa è un colpa al cuore cioè qui è un problema di cultura non è un problema di schieramento politico detto questo non mi piace neanche la strumentazione anzi io dico che se c'è un rapporto di amicizia e lo dico anche nell'intervista tra Giorgia Meloni e Orban tra il nostro paese e l'Ungheria questo rapporto di amicizia ci aiuta ad essere allo stesso modo chiari come vive la Lega Lupi come vive la Lega in questo momento che è l'unica voce stonata grazie a Dio sono il leader di noi moderati siamo i quattro partiti che sono i tuoi e vabbè ma lei è un partito della sua maggioranza della maggioranza di cui anche lei fa parte siamo quattro partiti che sostengono il governo e sull'azione di governo ovviamente stiamo lavorando tutti insieme compreso la riforma della giustizia mi sembra che sia stata votata e stiamo facendo queste battaglie detto questo ognuno sceglie la propria linea politica suggerisco nell'amicizia e nella stima che ho con Matteo Salvini su cui di non percorrere questi distingui e non mi piace neanche la ricostruzione che ho sentito prima ogni nazionale è chiaro che io se vado in una nazione devo rispettare le leggi di quella nazione ci mancherebbe altro non voglio intervenire ed esiste una giustizia ma non è questo quello che è in gioco oggi non è questo chiarissimo perché a parti invertite sarebbe successo non dico che cosa e io non voglio entrare su questo e quindi siccome siamo partiti di governo abbiamo una cultura di governo che fonda la coalizione di centro-estera credo che su questo dovremmo essere tutti uniti Francesco Giubilei una domanda per Fratoianni da te relativamente al caso Salis vorrei capire da Fratoianni partendo dal presupposto che è evidente che tutti condanniamo le sue condizioni e quello che sta accadendo però vorrei capire anche partendo dalle accuse che sono mosse dalla procura ungherese se secondo lei Ilaria Salis deve essere giudicata in Ungheria oppure se deve essere giudicata da una corte italiana e quindi tornare in Italia io penso che stante la condizione che abbiamo tutti visto non solo quella carceraria non solo quella estetica che ci turba e ci turba perché è estetica ma poi come infierisce sulla carne delle persone manette ai piedi ai polsi e guinzaglio ma stante la condizione del diritto noi abbiamo degli standard a proposito di garantismo e siccome io sono garantista non a targa alterne ma penso che il garantismo sia un valore sempre che sia applicato a tutti perché a volte c'è in questo paese la tentazione di essere molto garantisti con chi è un po' più forte e poi di mandare in galera i ragazzi che organizzano i rave o che si fumano spinello insomma questa è un'altra partita non apriamo il tema della giustizia però c'è un punto decisivo quali sono gli standard del diritto il diritto di difesa la sua qualità in quel paese e in quel contesto non è soltanto un tema legato all'enormità della richiesta di condanna enormità totalmente fuori da ogni ragionevolezza da ogni possibile paragone con il nostro stato di diritto ma per esempio gli avvocati che stanno seguendo diciamo collettivamente questa vicenda dall'Italia segnalano un altro problema il giudice la giudice in questo caso chiamata ad esprimersi sulla resale è la stessa che ha già espresso sentenze di condanna per lo stesso reato per altre persone considerate corresponsabili nel nostro paese non potrebbe succedere perché è ovvio che se giubilei giudice esprime una sentenza che ci riguarda per uno dei due tendenzialmente penserà che vale anche per l'altro e quindi nel nostro diritto in questo caso si può ricusare quel giudice e chiedere sostanzialmente che il giudizio venga espresso da altri io penso che l'insieme di quello che abbiamo visto dalle condizioni carcerarie all'enormità della pena ha i dubbi sulla possibilità di esercitare un diritto di difesa pienamente in linea col diritto italiano ed europeo oltre alla discussione diciamo sulla dubbia di indipendenza della magistratura ungherese consiglino di fare ogni sforzo ogni sforzo perché Ilaria Salis torni nel nostro paese sia come per chiunque sia accusato di qualche reato giudicata secondo le nostre norme e il nostro diritto quindi la risposta è questa Sara Menafra una domanda per l'onorevole Lupi Lei prima parlava appunto del tema del diritto che vale in ogni caso e quindi anche rispetto alle parole diciamo venute dagli esponenti della Lega però appunto c'è il tema Orban e in generale l'Ungheria cioè ieri alcuni esponenti leghisti e anche Matteo Salvini hanno criticato von der Leyen dicendo esplicitamente che sulle politiche agricole sbagli e che in generale loro non la voterebbero che non apprezzano diciamo questa iperpresenza diciamo di von der Leyen anche in realtà in qualche modo spesso anche in Italia ma la Lega sta tirando un po' troppo la corda nell'alleanza o va bene così? Tutti i giorni si distinguono? Ma intanto io sono stato l'altro giorno dal Presidente del Partito Popolare Europeo Weber abbiamo discusso appunto della prossima campagna elettorale ed è evidente che per noi il pilastro del Partito Popolare Europeo nelle prossime elezioni che saranno fondamentali sarà è importante lavoreremo per questo Orban è uscito dal Partito Popolare Europeo il Parlamento Europeo è una democrazia saranno gli italiani e tutti gli altri Paesi Europei a scegliere i loro rappresentanti in quel Parlamento Europeo a marzo credo che indipendentemente da quello che pensa la Lega che tra l'altro non l'ha votata von der Leyen candideremo il 6-7 cioè il Congresso del Partito Popolare Europeo di nuovo la von der Leyen a guidare l'Unione Europea ci sono dei temi che pensate alla protesta se sottovalutiamo pensiamo alla protesta in tutta Europa non solo in Italia degli agricoltori su cui l'Europa e insieme noi che abbiamo questa responsabilità dobbiamo riflettere come coniugare lo sviluppo sostenibile ad attività fondamentali come quelle degli agricoltori non si può sottovalutare questa il Green Deal da una parte ma contemporaneamente questo non può uccidere una categoria come quella degli agricoltori che è fondamentale dappertutto la libera concorrenza ci sono temi importanti la Lega in Europa sceglie di collocarsi dove ritiene più opportuno saranno gli elettori ricordo che all'elezione europea c'è un'elezione proporzionale ogni italiano potrà scegliere chi per esempio nella coalizione del centro-destra può meglio rappresentare l'Europa quindi io non sono in difficoltà perché noi abbiamo un programma che abbiamo sottoscritto da 30 anni con la Lega lavoriamo lavoriamo in tante regioni lavoriamo benissimo al governo posso solo suggerire alcune cose anche per la mia esperienza intanto lavoro perché la parte centrista noi moderati possa avere sempre più consenso ed essere sempre più determinante mi piace come la Meloni sta guidando questo governo anche sul livello internazionale dico solo come piccolo suggerimento che in questi 30 anni di esperienza parlamentare non ho mai visto ma anche nella prima repubblica governi cadere per l'opposizione ma i governi cadono normalmente per le divisioni interne della maggioranza non siamo in questa situazione se ne faccia una ragione la sinistra però attenzione a non tirar la corda questo è un anche perché oggi la sfida di Matteo Salvini che sta facendo bene il ministro dell'infrastruttura il vicepresidente del consiglio e per tutti noi è il governo per questo non sono opportune secondo me delle dichiarazioni poi capisco che ci sono le elezioni se uno pensa che in quel modo prende un voto in più una percentuale in più sceglie legittimamente lo rispetto ma io non lo condivido ovviamente nel senso che la mia linea è il mio contributo che do al governo e alla coalizione di centrodestra è un contributo di serietà di competenza di valori e credo che possano essere determinanti allora do una notizia intanto prima dell'inizio del consiglio europeo vero e proprio le agenzie ci informano che c'è stato un nuovo bilaterale fra Giorgia Meloni e Victor Orban proprio nella sala della rappresentanza italiana al consiglio europeo a dimostrazione di quello che le dicevo nel senso che c'è il pressing a questo punto c'è il pressing se c'è un buon rapporto secondo me io ci auguriamo tutti guardi qui io credo ma mi auguro in Parlamento avremo una posizione unitaria che questo caso possa finire che io credo che sia d'accordo anche con Frato Giani che forse in queste condizioni tra l'altro siamo in Europa siamo tutti paesi europei si può essere processato il diritto europeo gli accordi internazionali insomma lei possa tornare in Italia essere processata qui in Italia e poi si è sbagliato poi che sconterà la sua pena ma credo che questo sia il fondamento di qualsiasi posizione politica anche se siano distanti cioè ma grazie a Dio abbiamo questa idea e questa cultura Frato Giani che cosa sta succedendo nel vecchio campo largo e che cosa succederà dopo il 9 di giugno è evidente che tutto oggi è una partita il 10 giugno cioè dopo le elezioni europee sarà un'altra la tensione è in crescita Elie Schlein che era stata lo ha detto lei Zen finora ieri ha replicato con durezza a Conte ma sembrano lontanissimi in questo momento PD e Movimento 5 Stelle e voi? Ma io mi astengo dal commento quotidiano però lei è no no ma su che cosa fa l'uno o l'altra però serve una cosa ho avuto modo di dirlo direttamente e anche pubblicamente in più occasioni così non va bene l'opposizione è in una condizione di significativa insufficienza punto offrire un'alternativa al paese significa fare qualcosa di molto diverso significa cominciare un confronto sul merito delle questioni costruire comunque è possibile elementi di convergenza naturalmente ci sono delle differenze le europee sono sempre un terreno di competizione per una ragione precisa perché all'europeo si elegge un parlamento e lo si elegge sulla base di una rappresentanza proporzionale ma segnalo però diciamo a tutti i nostri interlocutori e le nostre interlocutrici nel campo alternativo a quello delle destre che l'8 e 9 giugno oltre all'europeo si vota in 3800 comuni e in due regioni quel giorno e diciamo poi ce ne saranno altri di appuntamenti mi pare evidente che la differenza salta gli occhi la destra come si vede litiga a posizioni molto diverse anche su questioni molto serie ma poi trova un elemento di rapida convergenza è più coalizione c'è proprio dubbio certo che lo è più ma soprattutto ha costruito un'idea di paese io penso che questo è il problema che abbiamo da questo lato noi abbiamo molte idee diciamo proposte da mettere in campo naturalmente non pretendo che le mie idee siano automaticamente le idee di tutti gli altri ma quello che mi pare evidente è che secondo me l'elettorato diciamo chiamiamo centrosinistra elettorato democratico fate voi anche qui le definizioni non aiutano quasi mai a farla semplice ma che l'elettorato chiede di fronte a questa destra destra al governo che ne fa una e mezzo al giorno a me pare che cresca una qualche insofferenza che dice sostanzialmente a tutti noi a tutte noi datevi una sveglia e costruite il prima possibile un'unità non di somma burocratica ma capace di farci pensare che ci sia un'alternativa siccome mi pare che l'alternativa sia necessaria io credo che sia l'ora di mettersi al lavoro di non pensare di rimandare sempre tutto dopo perché poi si arriva sempre un po' troppo tardi onorevole Lupi per lei da lei invece volevo sapere qualcosa in più sul premierato ora si sta ridiscutendo tutto in parte questo secondo premier da una parte poi manca il punto fondamentale quando scatta il premio di Maggianzo quando arriveranno queste risposte che sono quelle i poteri del Presidente della Repubblica non ne parliamo c'è tutta una roba ancora da costruire il percorso è ancora molto indietro per poter dire che si fa il premierato no il percorso è iniziato mi perdoni con una proposta di un disegno di legge costituzionale fatta dal governo e condivisa dalla maggioranza che ha un principio che su cui siamo tutti convinti e che abbiamo tutti sottoscritto tra l'altro è stato anche il frutto di un confronto non l'elezione diretta del Presidente della Repubblica i cui poteri devono rimanere assolutamente non toccati e perché è una funzione di garanzia fondamentale e invece l'elezione diretta da parte dei cittadini italiani del Premier del Presidente del Consiglio tra l'altro un segnale secondo me da cui se non torniamo indietro cioè gli italiani sono abituati ormai da 30 anni a scegliere il proprio sindaco a scegliere il proprio Presidente della Regione a capire che quello che hai eletto dura 5 anni se fa bene bene se no lo mandi a casa dopo 5 anni e quindi questo è il perno essendo una riforma costituzionale su questo perno si è aperto giustamente un confronto in Parlamento in questo caso come prima lettura al Senato ricordo che i disegni di legge di riforma costituzionale hanno bisogno di 4 passaggi almeno tra Camera e Senato e quindi ci si sta confrontando adesso al Senato all'interno della maggioranza per vedere alcuni elementi uno di quelli l'ha sottolineato lei è giusto mettere in Costituzione o affidare alla legge elettorale per esempio il tema del premio di maggioranza siamo e rimaniamo in un bicameralismo perfetto e di questo ne va tenuto conto anche eventualmente riguardo alla legge elettorale e alla modalità con cui si elegge direttamente il Presidente del Consiglio sono tutte discussioni e un confronto che ci sarà una cosa è certa che la maggioranza sulla questione di fondo che è quella dell'elezione che di ridare la possibilità finalmente anche per il governo di questo paese di scegliere chi ti governa e di sapere che quella è la maggioranza che durerà 5 anni e che alla fine di quei 5 anni ci siamo fatto bene bene se no se ne va a casa è un punto fermo per esempio la nostra preoccupazione è capire come siamo il Parlamento quindi essendo e continuando ad essere grazie a Dio una Repubblica parlamentare come il Parlamento da questo punto di vista continua a mantenere in particolare per l'opposizione i suoi poteri io ho tre minuti se c'è una domanda flash per uno da un minuto ancora ha fratto gli anni sempre sul tema del premierato ora noi in Italia abbiamo evidentemente un problema di stabilità di governo negli ultimi 10 anni abbiamo avuto rapido tu e rapido lui esatto vari governi e cambiato varie leggi elettorali forse una delle poche nazioni in Europa non pensa che il premierato possa rappresentare uno strumento uno di stabilità e due di maggiore democrazia nel momento in cui gli elettori vanno a votare e sanno chi sarà il loro presidente del consiglio che non viene deciso successivamente come talvolta è caduto no per niente io penso che per avere una qualità maggiore della democrazia dovremmo intanto ridare un ruolo al Parlamento che adesso è umiliato fa solo decreti decreti d'urgenza fiducia e basta è un luogo di ratifica Lupi lo sa benissimo andiamo lì e schiacciamo il bottone facciamo solo gli ordini del giorno non c'è più una discussione su un emendamento ma come si vede da questa legislatura il tema della stabilità come sempre è un tema politico la maggioranza ha vinto le elezioni le ha vinte con una legge elettorale pessima si possono fare leggi migliori ma vinci se politicamente convinci la maggioranza e allora è anche gli strumenti per governare anche per governare rapidamente certo con qualche forzatura immaginare di forzare sempre la Costituzione pensare che sia la Costituzione il problema del Paese è una gigantesca sciocchezza ed anche un'operazione un po' pericolosa Sara Perlupi ugualmente veloce nei fatti non si è nemmeno tentato di provare a fare un accordo con l'opposizione su una riforma diciamo che altera comunque i poteri costituzionali e insomma l'equilibrio lei appunto da moderato può essere un errore un boomerang o non c'è l'alternativa no ma io credo intanto che sia esattamente questo il confronto che spetta al Parlamento e quindi gli accordi e il confronto tra maggioranza e opposizione avviene in Parlamento la proposta è chiusa in genere le riforme costituzionali si è provate a farle io sono sempre perché le riforme possono essere come metodo il più condivise possibile poi io non credo che anzi io credo che la Costituzione nella sua seconda parte debba con intelligenza modernarsi nei suoi strumenti e quindi non credo che sia un libro intoccabile le sottolineo e sottolineo a chi si ascolta che una parte dell'opposizione per esempio è d'accordo sul principio fondamentale cioè sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio dobbiamo trovare la modalità con cui per esempio per esempio questo sia scritto essendo scritto in Costituzione sia molto chiaro credo che dobbiamo confrontarci nei passaggi parlamentari mi auguro che l'opposizione una parte dell'opposizione ribadisco una parte dell'opposizione penso Italia Viva non so la posizione di Calenda quale sarà ma certamente condivide questo passaggio e quindi già stiamo allargando il perimetro della maggioranza sulla riforma costituzionale mi auguro che anche l'altra parte dell'opposizione arrivi a fare delle proposte su cui confrontarci non solo dire no no perché la Costituzione non si tocca poi come sempre stato saranno se non si raggiungono i due terzi saranno ovviamente gli italiani una partecipazione a scegliere se è giusto o no abbiamo visto che alcune riforme costituzionali sono state bocciate penso a quella Renzi che io condividevo tra l'altro altre invece sono passate come la riduzione del numero dei parlamentari che io non condividevo e gli effetti si vedono tra l'altro adesso esatto allora io vi do una notizia intanto ringrazio Lupi e Fratoianni Meloni è al tavolo del Consiglio europeo insieme a Scholz Macron Michel Fonderlai e c'è anche Orban il pressing su Orban naturalmente riguarda temi importanti il bilancio pluriannale europeo e c'è la questione dell'Ucraina grazie ai miei ospiti il spazio a coffee break ci vediamo domani mattina alle 8 con Omnibus grazie buon proseguimento di giornata grazie a tutti